Comunicato della famiglia di padre Paolo Dall'Oglio ad un anno dalla sua scomparsa. È ormai passato un anno da che non si hanno più notizie di nostro figlio e fratello Paolo, sacerdote, gesuita italiano scomparso in Siria il 29 luglio del 2013. Tanto troppo tempo anche per un luogo di guerra e di sofferenza infinita come la Siria. Chiediamo ai responsabili della scomparsa di un uomo buono, di un uomo di fede, di un uomo di pace, di avere la dignità di farci sapere della sua sorte. Vorremmo riabbracciarlo, ma siamo anche pronti a piangerlo. Domani, 29 luglio, ad un anno dalla sua scomparsa, in tanti pregheremo e saremo vicino a lui, a tutti i rapiti, agli ingiustamente imprigionati e alle tante persone che soffrono a causa di questa guerra. Grazie. Grazie.